miriam di shine miriam è bellissima intelligente sa quello che vuole è determinata ma soprattutto ha questi capelli lunghi neri che accarezzerai per ore poi ha un fisico che spacca gli adolescenti sono fantastici hanno una luce splendida negli occhi quando sono innamorati leonardo ha diciassette anni orgoglioso sfoglia l'album delle foto presenti sul suo cellulare e con un evidente ostentazione cerca di mostrarmi le immagini di miriam in costume da bagno è davvero graziosa avrà la coda di spasimanti alla porta attento leo ridacchia soddisfatto sotto gli occhi divertiti dei suoi genitori lei è una persona seria non come le altre l'ho scelta perché è diversa è stata solo con me la sposerò il mio sopracciglio destro si inarca con fastidio mentre fisso questo ragazzo che in meno di un minuto si è tolto le vesti dell'adolescente innamorato per indossare quelle del piccolo uomo spavaldo ed arrogante le sue ultime parole l'ho scelta è stata solo con me mi rimbalzano sullo stomaco e cominciano a farlo brontolare l'hai scelta? chiedo senza esitazioni quelle prima di lei non erano così speciali afferma Leonardo sorridendo con malizia al padre carine alcune anche molto belle ma delle mezze troiette sì insomma quelle che vogliono solo divertirsi e tu ti sei divertito? chi non si divertirebbe? risponde fiero di sé quindi loro si divertono con ragazzi come te e sono troiette tu invece che ti diverti altrettanto a starci come ti definisci? io sono un uomo rabbrividisco